Il mio nome è Filippo e sono l'enologo di Castagnoli. Il vino è cultura e libertà. È cultura perché ci è stato tramandato dai nostri avi, è cultura perché fa parte di noi, fa parte di quello che eravamo e di quello che saremo. L'annata preferita delle ultime 10 è la 2019, perché secondo me è la classica annata dove tutti i pianeti si sono allineati vuol dire che il vino è super bilanciato e ci sono a livello aromatico, a livello di struttura, è un vino spettacolare. Quando cammino tra le vigne, specialmente a Castagnoli con questi terrazzamenti, la prima sensazione che hai è quella di aver raccolto, di sentirti questo peso addosso, di aver raccolto un'eredità che è quella soprattutto della conservazione del paesaggio che ti è stato tramandato e che devi essere in grado di lasciarlo ai prossimi senza impattarlo, senza personalizzarlo.